300 tonnellate di alluminio purissimo trafugate all'azienda Profil Glass di Fano sono state recuperate da una operazione congiunta fra il nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro, la compagnia di Fano e i colleghi di Brescia. Provincia quest'ultima in cui è stato indagato per concorso in ricettazione aggravata un 54enne del posto assieme ad altre due persone sempre riconducibili alla provincia lombarda. I tre indagati si sarebbero appropriati di una quantità di alluminio tale da procurare alla Profil Glass un ammanco di materiali del valore prossimo al milione di euro. Proprio l'azienda fanese aveva commissionato ad una ditta di Urbania il trasporto della merce che dal sud-est asiatico è raggiunta all'interporto genovese di Rivalta Scrivia. Ma la ditta di Urbania, anch'essa parte l'esa della vicenda, si è trovata impossibilitata a sopportare un simile carico di merce e attraverso una piattaforma internet ha contattato altre due ditte per procedere al ritiro del carico. Ditte che però sono risultate facenti capo a società fittizie che una volta preso il carico si sono presto rese irreperibili. Il materiale di fatto giunto presso l'interporto di Genova proveniente da Singapore è stato prelevato da due ditte fittizie riconducibili a soggetti campani per poi perdere le tracce, si sono perse le tracce sostanzialmente di questo materiale. Gli accertamenti svolti anche grazie all'intervento dell'arma locale hanno permesso di individuare una ditta di rottamazione nell'Interland Bresciano dove questo ingente materiale è stato rinvenuto. Tuttora è stato restituito alla ditta e finalmente sono in corso le operazioni di trasporto presso la sede fanese. Sicuramente un risultato importante che ha visto unire le forze sia dell'arma territoriale fanese, le componenti investigative del comando provinciale di Pesaro mediante il nucleo investigativo e il supporto dei colleghi della compagnia di Bresci. L'operazione è stata applaudita dal nuovo comandante provinciale dei carabinieri Gianluigi Cirtoli che da due settimane è succeduto ai vertici dell'arma di Pesaro a Luciano Ricciardi. Un'operazione in cui è stata decisiva l'attività di monitoraggio sulle targhe dei 14 auto articolati incaricati del trasporto. Attività di indagine che ha permesso di raccogliere elementi probanti tali ad apparecchiare un blitz materializzatosi all'alba di venerdì mattina. Perquisita la ditta di rottamazione sono state trovate 256 pile di lingotti di alluminio. I carabinieri però nell'occasione hanno rilevato altri illeciti oltre a quello perpetrato alla Profilglas. Nel corso della perquisizione sono state infatti rinvenute 12 bobine di acciaio del valore di mercato di circa 4 mila euro l'una provenienti da una ditta tedesca, 24 bancali di vino di una nota azienda produttrice del Trentino del valore di 46 mila euro e un ingente carico di tondini da edilizia in ferro. Tutto materiale di sospetta provenienza furtiva che si sta approfondendo in merito alle responsabilità degli indagati. Abbiamo già appurato che i tre soggetti denunciati in concorso per ricettazione aggravata dall'ingente valore hanno tutti i precedenti per reati contro il patrimonio.